Allora? Che fai? Ah, scusate. Va bene. Dai, stai pensando a un breffo. Sai che stanno le carte? Dov'è? Mi va, ci ziamo un po' il gioco, va? 200 per giocare. Sei sistemato bene? Come? No, dico la casa. Bello. Ah, sì. E voi invece quant'è che ti conoscete? Guarda un po', giochiamo al bar all'interno. E vieni spesso al bar? No, ieri sera è la prima volta. Certo che ti sei preso una bella sbronza, eh? Carte. Comunque, c'hai ripulito a tutti. Vuoi anche un teco biscotti, non lo so. Scusate, tre per me. Tre per te. Due per me. Due. Servito? Mille. Per giocare. No, no, per me no. Non bello. No, le vostre mille. Più mille. Va bene. Ma anche per me, vedo. Ful di Jack.